Buongiorno a tutti. 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 Vai Daniele, vai Daniele, vai Daniele, vai Daniele! Vai Daniele! Hai vinto, un minuto e undici. Oggi sono riuscito ad andare sugli sci e soprattutto esprimere bene nel tiro perché con due penalità sono riuscito finalmente a fare un buon risultato. È stato il migliore della stagione e sono contento che sia venuto oggi. Vai Daniele! Vai Daniele, vai Daniele, vai Daniele! Vai Daniele! Vai Daniele! Vai Daniele! Vai Daniele! Vai Daniele! Vai Daniele!